Sassari, il settore politiche e sociali del Comune ha completato il programma del RACE, reddito e inclusione sociale e si procederà con l'erogazione direttamente tramite accredito negli IBAN comunicati. Visto l'alto numero dei beneficiari presenti in graduatoria, si partirà con l'erogazione delle prime due mensilità del contributo di aprile e maggio 2022, prima una e a fine maggio la seconda, con modalità anticipata rispetto alla sottoscrizione dei progetti di inclusione sociale con gli assistenti sociali dei servizi territoriali. È importante ricordare che la legge regionale prevede che il progetto di inclusione sociale debba accompagnare la concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità in presenza di difficoltà oggettive di differire l'avvio dei progetti. Pertanto le somme attribuite nelle prime due mensilità saranno comunque vincolate alla successiva sottoscrizione degli impegni sociali, pena la perità del beneficio e la pronta ed immediata restituzione delle somme precedentemente acquisite. Nei giorni scorsi si è svolta a Parigi l'edizione 2022 dell'Euro Dog Show, evento cinofilo di grande spessore internazionale che ha visto la partecipazione di ben 18.000 cani di razza provenienti da tutto il mondo. Tra loro due cani del nostrano e rinomato allevamento Old Passion's Kennel di Vincenzo Mazzacane con sede a Porto Torres. Vincenzo ha infatti portato al titolo europeo una Manchester Terrier di nome Que. Nome completo che vuoi assersi in T, già campione sociale giovani 2021, campione sociale di bellezza 2021 e giovane campione italiano di bellezza, con tan egregiamente superato, è una Jack Russell Terrier, appello ruvido di nome Days, nome completo Days Like This, già riproduttore selezionato, campione di bellezza croato, san marinese e sloveno, con il titolo inoltre di campione italiano di lavoro e anche per lei tan superato. Due soggetti di valore assoluto, quindi quelli allevati da Vincenzo Mazzacane e presentati all'Eurodog Show di Parigi, dove hanno trionfato conquistando il titolo europeo, insieme a sua figlia Caterina, ottima handler, che ne ha valorizzato la struttura e il movimento. Spazio anche ad un altro soggetto allevato da Vincenzo, un'altra Manchester Terrier, Black Idol Senji, che si è fermata sul podio di vice campionessa europea e vanta i titoli già acquisiti di campione internazionale di bellezza, campione italiano, croato, san marinese e sloveno di bellezza, con tan superato anche per lei. E pensare che questi sono solo alcuni recenti risultati dell'allevamento Old Passion Scandal per Vincenzo Mazzacane, che dopo una vita di passione, sacrifici, studio e tanto amore per i suoi cani, ha collezionato un'infinità di successi, a testimonianza del grande lavoro svolto in favore della cinofilia, ma anche per le tante famiglie che hanno la fortuna di avere o di aver avuto un suo soggetto. Grazie per la visione! Cagliari. I falchi della squadra mobile hanno arrestato in flagranza di reato un pescivendolo, 41enne, incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da qualche giorno i poliziotti avevano messo sotto osservazione una pescheria del quartiere di San Benedetto a Cagliari, all'interno della quale si era appreso che si spacciasse droga. Il blitz è scattato proprio mentre il titolare della pescheria stava cedendo alcune dosi di hashish ad un cliente. La droga era nascosta all'interno di un sacchetto con il pesce appena acquistato. Durante la perquisizione della pescheria sono stati rinvenuti due pezzi di hashish di ottima qualità, per un peso totale di 70 grammi, 41 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, varie ritaglie e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono stati sequestrati anche 3.500 euro in contanti, probabile provento dall'attività di spaccio. Al Ghero, i consiglieri comunali del gruppo di opposizione Gabriele Esposito e Pietro Sartore denunciano lo stato di completa incuria in cui si trova a piazzetta Francesco Soggiu, dove dei locali comunali, un tempo utilizzati come spazi espositivi o come uffici, sono da tempo stati abbandonati dall'amministrazione Conoce e sono così diventati oggetto di atti di vandalismo con un importante danno per il patrimonio comunale. In seguito alla segnalazione di un nostro concittadino che ci segnalava questo spazio in cui siamo, in forte stato di abbandono e di incuria, stamattina siamo venuti a visionare la situazione. Siamo dietro il mercato civico di Al Ghero, in pieno centro storico, in uno spazio che qualche anno addietro è stato intitolato a un maresciallo della Guardia di Finanza, maresciallo Francesco Soggiu, pluridocorato della Prima Guerra Mondiale. Spazio che purtroppo l'amministrazione ha abbandonato all'azione dei vandali, che come vedremo è oggi in una situazione di totale degrado. Un altro spazio totalmente in abbandono, quello dietro il mercato civico in pieno centro, qui da un po' di tempo gli spazi sono stati totalmente abbandonati e come vedete tutte le vetrine ormai distrutte, qua addirittura è stata sfondata una vetrata, è stato aperto tutto lo spazio qui, c'è di tutto, buttato a terra, istintori, altra roba qui, come potete capire, la porta non c'è più, è stata totalmente spaccata, lo spazio è in completo abbandono, come si può vedere, mondezza dappertutto, situazioni di disastro. Nel cuore del centro storico uno sfregio come questo è veramente intollerabile, lasciare completamente abbandonati, in preda ai vandali degli spazi così preziosi, è veramente inaccettabile. Ora sicuramente vanno ritracciate le responsabilità, i responsabili vandali che hanno fatto questo, ma esistono anche delle responsabilità politiche, non è possibile, è inaccettabile che il demanio pubblico sia lasciato in queste condizioni, è inaccettabile che chi ha la responsabilità anche politica di vigilare, di riempire anche questi spazi con delle attività, non lo stia facendo. Ci sono delle responsabilità in capo sicuramente ai vandali, e ci sono delle responsabilità politiche in chi sta permettendo che tutto questo avvenga. Stintino, nei giorni scorsi il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva la variante al piano urbanistico comunale per l'adeguamento al progetto di tutela, prevenzione e valorizzazione della spiaggia della Pelosa. Adesso il progetto passa all'assessorato regionale antilocali urbanistica per la verifica di coerenza, soltanto dopo l'esito positivo di quest'ultima diventerà efficace. Si tratta di un ulteriore tassello verso la realizzazione del progetto, che prevede l'eliminazione della strada asfaltata a Monte della Spiaggia, ha detto il primo cittadino Antonio Diana, quindi la ricostruzione del sistema dunale, il posizionamento di una passerella in legno, in grado di salvaguardare appunto le dune della Pelosa, un progetto sul quale l'amministrazione comunale sta lavorando ormai da diversi anni e che ha già avuto un finanziamento di 5 milioni di euro dalla regione. Il nostro obiettivo è portare a compimento l'iter quanto prima e avviare i lavori. L'Assemblea Civica, inoltre, proprio nell'ottica del proseguimento del percorso avviato per il recupero della spiaggia Gioiello, ha approvato anche la variante definitiva del piano speciale Capofalcone. La variante consentirà la realizzazione del piano speciale attraverso due stralci e l'accessione al comune delle aree necessarie ai parcheggi e alla viabilità a servizio della Pelosa. Anche in questo caso la variante diventerà efficace solo dopo l'esito della verifica di coerenza da parte della regione e pubblicazione sul Buras. Durante la stessa seduta, il Consiglio comunale ha approvato anche la variante al piano urbanistico comunale per la realizzazione di una viabilità ciclabile lungo la strada panoramica, la pinetta centro storico. Infine, in considerazione delle nuove modalità di convocazione del Consiglio comunale dopo l'esperienza della pandemia, l'Assemblea ha approvato la variazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consigliari. Con questa modifica il Consiglio potrà operare anche in videoconferenza e con il segretario comunale o un suo vicario collegati da remoto quando impossibilitati a presenziare. Il Lago di Baras Le acque del Baras confluiscono a pochi metri dal mare sul limite sud della spiaggia di Portoferro formando la fonte del Libidolzi. Il Lago di Baras, essendo un lago naturale, ha una vegetazione stabilizzata da lungo tempo e con degli aspetti originali e ha per tutto il territorio circostante una notevole importanza biologica e neutralistica. Le dune di sabbia giallissima e piglia di imboschimento fanno la cornice alle tranquille acque del lago. La vegetazione interna è composta da isolati lecci, cisti e qualche palmanana mentre sulle rive regna l'emula vischiosa accompagnata dal giunco e dalle tamerici. La vifana è tipica delle zone palustri, foraghe, aeroni cenerini, gabbiani e una moltitudine mirondini impegnate costantemente a cacciare zanzare che a milioni nascono dall'acqua durante l'estate e che a loro in saputa difendono il lago da un'invasione turistica. L'acqua del lago, che ha un'estensione di 50 ettari, è leggermente salina non per infiltrazione marina ma per lo scioglimento dei sali delle acque piovane e sorgive che raccoglie dalle rocce circostanti. Tra il lago di Baraz e Portoferro, e cioè per circa due chilometri, si estende una rigogliosa pinetta impiantata interamente sulle dune a partire dai punti protetti dalla salsedine. Mentre le dune, di fronte al mare, sono ricoperte da bassi cespugli e belle fioriture di pancrazio marittimo. It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here you can take a break Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ti aspettiamo. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare il corso regolare il corso regolare il corso per adulto per adulti in orario serale. Puoi, puisne. il sito serale tiangioi.altervista.org o la pagina facebook corso serale tiangioi sassari puoi anche scriverci alla mail itangioi ss chiocciolagmail.com visita il sito web www.ailandsardinia.it l'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti le istituzioni le aziende e gli artisti della sardegna tg informazione e approfondimento orari di messa in onda dalle 13 alle 15 e 30 dalle 19 alle 20 e 45 ultima edizione dalle 23 30 telegi guarda al futuro la nostra emittente da da ora è visibile non solo in tutta la sardegna ma in tutti i continenti un progetto ambizioso che porterà sassari la sardegna e le sue aziende in tutto il mondo per vedere telegi sul vostro televisore basta avere una smart tv ed una semplicissima connessione internet digitare www.telegi.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti ma non solo la potete già seguire dal pc o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate telegi la tv in tasca www.telegi.tv